Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Freccia Potente e oggi siamo su un video sul computer Allora ragazzi e finalmente siamo andati, però ragazzi adesso vi vorrei far vedere un pochino come siamo Cioè una prova, allora vorrei mettere, ok già tutto è andato a puttane Cosa erano i miei genitori perché io vivo nella casa dei miei genitori, ok, ok giochi, giochi.it Allora ragazzi voglio vedere solo, allora sto vedendo un gioco e adesso mettiamo il Ecco qui ragazzi il gioco ninja E' il gioco di Dottor Trump, allora mettiamo americano perché io sono italiano e non capisco niente, neanche un cazzo Ehm, raga, non ho visto il gioco senza... next Come? Come si gioca? Vabbè raga Ehm 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 Ehm, è un po' più veloce Ah, devo accoppiare queste cose, secondo me queste cose raga Forse devo andare qui raga, sull'ascensore Che cosa è successo? Wow ma non capisco niente Non capisco niente Capisco niente Non capisco niente Ehm, mettendo like a man Questo l'ho capito Senta il dimm Ehm Quando l'american crea... Grande! Dottor Slam Merton 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 I don't addiv... Black man Black man Black man Black man No Voto Chabagli Mister Mh 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 Che cosa? Io ho vinto Cos'è? Cos'è? Scommetto che devo... Che cazzo sto... Ragazzi che cazzo sto giocando? Oh Ah ho capito ho capito Vieni Ma chi è? Oh questa cosa raga hanno fatto proprio una cosa animata Ah Aiuto Si Ho capito raga Ho capito come si gioca Ehm Facilino Eh si ma vuoi venire? Ti ho aspettato tre ore Ti ho aspettato tre ore Eccolo Ah La signora mia... Questa la chiameremo signora... Aiuto Sono per così... Questo lo conosco Io sono più famoso di voi Oh Lo so che sono bello ma sono troppo... Ok raga Questa è una prova raga eh... Ok Questa è una... Una prova raga perché è il primo gioco che stiamo facendo E' la madonna... Tengo i capelli più belli dei suoi... Tengo i capelli più belli dei suoi... Io lo chiamo... Io lo chiamo... Mi è riuscito così... Ma ecco... Ma perché... Tutti sono gelosi che... Forse... Questo gioco sintetica... Che tutti sono gelosi di Donald Trump raga... Ehm... Beh non... Non lo so... Tutti sono gelosi di Donald Trump e tutti volevano... La sua proclamazione Adesso che? Che no? Non ho questo... Oh ma è facile... Perché... Perché... La signorina che voleva era... Non mi ricordo... Milady... Io la chiamo Milady perché... E' una vecchia... Milady... Non mi ricordo come si chiama... Ma... Non c'è... C'è... Forse è il boss... Non lo so... Vieni... Vieni... Fatti sotto... Fatti sotto... Come un vero uomo che io sono... Il parru... Il parrucchino più bello di te... Tu sei... Pelato... Pelato sei... E va a fa culo a tutti... Ok... Raga... Questo video sarà un po'... Un po' corto raga... Perché... E' per iniziare... Già siamo a tre... A sei minuti raga... Forse è questa... Però era più vecchia... Fatti sotto... Vieni... Vieni... E' facilissimo raga... Ehm... Già sto vedendo altri giochi... Questo è il primo gioco che ho trovato... Un altro e basta... Raga... Ho appena finito di montare... Il video raga... Perché... E' stato un casino... Montarlo sul compito... Ammazzia... 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 Ah... Mamma mia raga... Ok... Oh... Questo qui è il mio preferito raga... Questo qui... Questo maschio... Il mio preferito... Perché tutti... Oh... Io sono il più geloso... Perché voi siete gelosi che io sono... Eh... Ok... Ok raga... Ehm... Siamo bravi... Raga... Spolliciate... Che così ci facciamo una serie su questa raga... Ci facciamo una serie... A... A 200 mi piace... Facciamo una serie su... Su Donald Trump... Ok... Ma che cazzo... Raga... Ma poi... Io colpisco il parrucchio... Che bel culetto... Mori... Questo è impermeabile raga... Non muore... Muore... Morto... Cioè ma quando... Quando finisce... Mmm... Non finisce più questa roba... Non sta avvenendo più niente raga... Vai raga... Ehm... Guardate... Donald Trump... Tutti sono... Tutti sono... In senso... Tutti sono uguali agli altri... E Donald Trump non è proprio uguale... Come l'hanno fatto... Poi raga... Adesso farò tutti i video qui... E a 200 mi piace... Ci facciamo una serie su questa cosa... Se la volete... Perché a me... Mi sembra abbastanza bella... Abbastanza pure facilina per iniziare... Facciamo una bella serie con questa... Guarda... Tutti sono uguali ai presidenti... E tante Donald... Donald Trump... Non lo so perché raga... Non mi fate domande... Non mettete... Non mettete... Commenti... Non lo so perché... Puoi morire... Atrocemente... Vabbè raga... Mo' mi faccio acchiappare... Veramente... Perché questo gioco è infinito... Secondo me... Scherzavo... A questa mi faccio acchiappare... Perché... Ehi... Tu non meriti... Ehi... Ehi... Ok... Vieni... Mi faccio acchiappare... Da questa... Acchiappare da questa... Se vedete il mio dito... Da questa... Vieni da me... Vieni... Vieni... Ah... Questi si uniscono... Quindi... No raga... Non ho capito... Quindi... Solo questa... E poi... Ok raga... Posso concludere qui... A 200... Mi piace... Ci facciamo una serie... Se volete... Ma poi... Raga... Altri giochi che ho visto... Altri due giochi... Che... Che sto facendo... Ho voluto a cominciare così... Quindi... Ragazzi... Spero che questo video... Vi sia piaciuto... Mi piace... Anche qualche commento... Se non siete ancora iscritti... Iscrivetevi... Noi ci vediamo al prossimo video... Bella ragazzi... Noi... 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 Noi...